Pinto, soddisfatto per Zaniolo? No, ma non si fare meglio felice che M.O.U. abbia scelto di restare. Conferenza stampa di Tiago Pinto, che ha parlato della cessione di Zaniolo e del contratto di M.O.U., pensavamo di incassare di più per Nicolò? Sì. Fino a una settimana fa, avevamo offerta maggiore. Non sono veramente contento. Ma ho dei dubbi che fosse possibile far meglio. Eravamo consapevoli di quello che stava succedendo con Mourinho. Siamo felici che abbia continuato a credere nel progetto. Pinto ha poi proseguito approfondendo il discorso sul tecnico portoghese, che era stato avvicinato da Brasile e Portogallo per il ruolo di C.T. Lavoriamo ogni giorno per il bene della Roma, pranziamo ogni giorno insieme. Non giochiamo in squadre diverse. Le tre competizioni? Non è un caso che negli ultimi anni chi è uscito in Europa poi abbia vinto il campionato. C'è molto lavoro da fare sui calendari e questo va oltre il tema della rosa. Sui giocatori, io cerco sempre di creare un ambiente consensuale sui giocatori che prendiamo. Tutti conosciamo i paletti, ma mai abbiamo preso un giocatore senza l'opinione dell'allenatore. Né io né lui abbiamo tutti i giocatori che vogliamo, non possiamo. Mi assumo la responsabilità di tutti i giocatori, tutti quelli presi fino ad ora e che non hanno fatto bene sono 100% responsabilità mia. A breve il servizio completo. 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 Grazie a tutti